. Sembrava aver superato il suo periodo più buio dove aveva rischiato di perdere la vita a causa di un'overdose, sembrava essere riuscita a rinascere dopo un lungo periodo di rehab per i suoi problemi di alcolismo, sembrava aver trovato di nuovo la forza di portare avanti la sua più grande passione, il canto e il coraggio di fare coming out come persona non binaria, per poi ritirare tali dichiarazioni. Demi Lovato sembrava essere tornata a vivere e a essere felice ma, ancora una volta, l'ex volto della Disney, e quella ragazzina nota a tutti per la sua voce da usignolo, e per quella parte in Camp Rock che l'ha resa nota in tutto il mondo, sta di nuovo male e rischia, forse, di nuovo la vita. Sono fottutamente malata, non riesco più ad alzarmi dal letto rivela la stessa Demi, oggi trentenne e con una carriera nello showbiz fin da quando era una bambina, in alcune stories Instagram, poi rimosse, ma che hanno fatto preoccupare tutti. Questo è il mio ultimo tour, non posso farcela ancora, ho a malapena la voce per cantare, punterò spesso il microfono sul pubblico, ho bisogno che mi aiutiate voi a cantare. Così, Demi, prima non binaria, poi di nuovo binaria, prima con problemi di alcol e droghe, poi no, sembra non potere fare più nulla per migliorare le sue precarie condizioni fisiche, e chiede una mano ai suoi fedelissimi fan, per aiutarla a portare avanti le ultime tappe del Holy FWCK Tour, che è il titolo del suo nuovo album lanciato ad agosto, che la sta tenendo impegnata in tutto il mondo, e che sarà l'ultima tour unei in cui la vedremo protagonista. L'ha lovato, infatti, si ritira dalle scene e, pur non specificando quali siano le cause del suo malessere fisico e psicologico, sta facendo preoccupare tutti proprio come quella volta, nel 2018, quando era collassata dopo un'overdose che le aveva causato anche un ictus, e un infarto e aveva rischiato di non farla tornare mai più né a cantare né a respirare. Real Video vi ringrazia per essere rimasti fino alla fine, iscriviti e attiva la campanellina per rimanere aggiornato su tutti i miei prossimi video.